Siamo arrivati, sani e saldi. Chi da Santa Cristina? E chi da Menebu? Adesso ci aspetterà una bella serata. Chi canta e chi non fa niente? Non è grado! Una delle tante cose che vi volevo dire era che sul mio sito è uscita la nuova maglia. Semplice, bella, particolare. Quindi la troverete su GG Moda Patriotica. Acquistatela e grazie veramente per tutto. È di tutto. Mi mando un bacio. È sempre solo così bella. Oh, finalmente tornano i nostri sergenti. Questa è l'ultima coppia, veramente rimasta in piedi. Una coppia autentica, fatta di bellissimi, che si vogliono veramente molto bene. Devo essere sincera, Sergio è molto simpatico, ma anche Greta gli sta dietro. Scherzano molto, ci fanno tornare giovani. A me personalmente sono una vecchia zia. Chiudo questa volta in maniera un po' anomala con la sorella di Greta Rossetti, Lorena, altrettanto bella. Ci vediamo al prossimo video del Grande Fratello. Un bacione, ciao!